Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Mario Chiara e qua si parla di libri, libri che leggo, libri che scrivo, libri che vorrei comprare, libri a 360 gradi ed è direttamente collegato col mio book blog L'arte dello scrivere forse che potete trovare su Tumblr ma anche in collegamento con i miei profili Facebook e Instagram. Potete trovare i link a tutti questi miei profili social qui sotto nell'info box. Oggi mi hanno richiesto una lista di romance in cui il protagonista o la protagonista sono innamorati della persona sbagliata o comunque qualcuno che non corrisponde ai loro sentimenti, ma poi durante la trama del libro si accorgono magari di qualcuno che è sempre stato al loro fianco o comunque si innamorano invece della persona giusta. Io non avevo mai fatto una lista di romance proprio su questo specifico tema, però in realtà avendo fatto già una lista di romance con Beta Hero o Second Lead dove comunque è non il protagonista ma il secondo protagonista a conquistare la protagonista femminile. O comunque non c'è un eroe proprio alfa diciamo che conquista la protagonista, quindi di solito è un uomo che all'inizio parte un po' in sordina o al secondo posto nella trama del libro o comunque non è l'interesse amoroso principale della protagonista. All'inizio diciamo che quella lista contiene dei libri che potrebbero andare bene anche per questa lista. Quindi vi lascerò il link anche a quella lista sempre qui sotto nell'info box perché più o meno l'argomento è sempre quello. inoltre c'è anche da dire che questo tema del sono innamorato di uno poi durante il libro mi innamoro di un altro che magari conosco da anni è un tema diffusissimo all'interno del romance che può essere utilizzato un po' in tutte le salse abbinato con altre tematiche quindi è stato un po' difficile trovare proprio dei romanzi specifici la cui trama si basa solo su questo. Tante volte questo tema è mescolato insieme ad altri temi perché altrimenti da solo a volte non basta a sostenere la trama di un romanzo storico. Però insomma ho cercato di fare del mio meglio per trovare le trame più azzeccate, più vicine a questa tematica. Quindi troverete anche dei romanzi purtroppo inediti in italiano in questa lista, in questo caso perché è lì che ho trovato i libri che più si avvicinavano proprio a questo tema specifico. Allora cominciamo con il libro che sicuramente è il più azzeccato per questo tema. Il romanzo purtroppo è inedito in italiano e si intitola The Ideal Contest di Catherine Grant e abbiamo appunto una ragazza alla sua prima stagione che si ritiene fortunatissima perché è riuscita a tirare l'attenzione dello scapolo più ambito che è un duca tra l'altro però il suo migliore amico invece, il conte di Windermere, è preoccupato per lei perché è convinto che il duca non abbia delle intenzioni onorabili verso di lei, la vuole solo conquistare e poi mollare lì rovinandole la reputazione. Quindi cerca di conquistarla in modo che lei finalmente si accorga di lui come interesse amoroso. La trama sembra molto carina, questo non l'ho ancora letto però l'ho messo nella mia lista di libri da leggere perché prima di preparare questa lista non lo conoscevo e penso di non aver letto niente nemmeno di questa autrice che è piuttosto nuova e non molto famosa neanche in America, se non sbaglio. Però potrei sbagliarmi perché ci sono talmente tante autrici americane e negli ultimi tempi non ho letto tantissimi romance in lingua quindi magari mi sono persa tutta una generazione di nuove scrittrici e magari questa è anche abbastanza di successo. Non lo so, non l'ho ancora letto. La trama però è carina e molto azzeccata per questa lista. Altro libro che sicuramente finisce in questa lista perché c'è un famosissimo triangolo amoroso con un uomo assolutamente sbagliato e uno assolutamente giusto è Whitney Amore Mio di Judith MacKnow. Anche qui abbiamo una ragazza Whitney che quando diventa una donna ricca e piena di fascino e di stile decide che finalmente è giunto il momento per conquistare il suo primo amore. Però dopo scappare di essere stata promessa in sposa dal padre invece è un altro uomo, un duca. E qui comincia un triangolo amoroso perché comunque sì lei sarebbe innamorata del suo primo amore però diciamo che il duca ci sa fare quindi preme alcuni tasti, diciamo così per lei. Poi comunque c'è anche molto di più nella trama, è una trama molto classica ma al tempo stesso molto sviluppata in molte ramificazioni, succedono molte cose tanto che il libro in italiano è stato pubblicato in due volumi addirittura perché appunto è abbastanza lungo. Allora io non amo tantissimo Judith MacKnow perché tende troppo almeno drammatico per i miei gusti. Dipende dal romanzo, ci sono alcuni romanzi in cui è molto fiabesca, quindi le trame sono molto dolci, forse irrealistiche però quasi delle favole e quelli mi piacciono, ok? Mentre alcuni suoi libri come appunto Whitney Amore mio sono proprio dei melò, mi danno proprio sul melò drammatico, calcano questa onda e te ne accorgi soprattutto nei comportamenti dei protagonisti, cioè io la protagonista di Whitney Amore mio a volte l'avrei voluto a strozzare per il mio carattere, nel senso perché se dittici così innamorata di uno perché fai quelle robe lì? Molto spesso io ho noto che in questo tipo di romanzi di Judith MacKnow diciamo che i protagonisti non sono proprio il massimo della razionalità quando fanno qualcosa, a volte pure troppo, cioè a volte non ti dai delle spiegazioni su perché fanno alcune cose, ma serve ai fini della trama secondo me. Però questa è un'opinione personale, Judith MacKnow è un'autrice molto famosa e molto di successo, quindi che piace a tantissime persone, quindi non lasciatevi frenare comunque dal mio... dalla mia opinione su di lei e in particolare su questo romanzo, perché questo è un romanzo molto molto amato che ha conquistato milioni di lettori, io sono una piccola nera a cui non è piaciuto, ma a moltissimi è piaciuto, quindi comunque dategli una possibilità per scoprire se a voi invece piacerà oppure no, perché le opinioni sono molto soggettive a proposito. Invece un libro che vi consiglio perché a me è piaciuto è Bisticci d'amore di Elisabeth Hoyt. Allora, anche questo è disponibile in italiano invece come Whitney Amore Mio e questo pure in ebook, ma anche Whitney Amore Mio dovrebbe essere disponibile in ebook, comunque vi lascio sempre i link qui sotto nell'info box, non preoccupatevi se li volete comprare o volete comunque anche solo vederne la copertina, leggere la quarta di copertina su Amazon, il link è qui sotto. Bisticci d'amore parla di una donna che ha il fidanzato perfetto, è un marchese, forse sia un po' troppo contegnoso, un po' troppo privo di umorismo, ma a lei piace, no? Perché a lei piace avere una vita già programmata, che vada su binari già decisi, non è una persona che ama le sorprese. Però purtroppo, siccome deve sposare questo marchese, le tocca anche conoscere suo fratello che ha la fama di essere donnaiolo e anche proprietario di una distilleria illegale, no? E fatto vuole che lo conosce non solo per il fatto che è il fratello del suo promesso sposo, ma lo conosce anche perché scopre che questa sua distilleria illegale si trova in un quartiere malfamato di Londra, in cui si trova anche l'orfanotrofio di cui lei è patronessa. Quindi i due si ritrovano a cozzare tra di loro, ad avere dei confronti l'uno con l'altro, appunto per colpa di questa distilleria che secondo lei rovina la morale, rovina le persone di quel quartiere. Secondo lui invece dà lavoro, dà denaro a gente che non avrebbe altra forma di sostegno, insomma, i due magari non sono così lontani nel voler aiutare queste persone, ma non se ne rendono conto e all'inizio partono proprio con il piede sbagliato, poi però pian pianino invece si accorgeranno di essere più simili di quello che credevano e qui solgerà il problema che lei ha promesso a sposare il fratello di lui e non a lui, come vi potete ben immaginare. Io questa l'ho trovata una trama molto carina, sì, al 90% sappiamo già come va a finire il libro, perché è logico, però Lloyd secondo me è sempre una scrittrice che vale la pena di essere letta, ha un livello di sensualità un pochino più alto di altre autrici romance, ma se la cosa non vi dispiace sicuramente vi consiglio questo libro. Altro libro che ho messo in questa lista, perché ci rientra a pennello, è sicuramente The Hummingbird di Lavier Spencer, che però è inedito in italiano e non è una perdita, credetemi, perché l'ho letto nella mia missione di leggere tutti i libri di Lavier Spencer l'anno scorso e l'ho fatto e nonostante parta molto bene da un'idea abbastanza innovativa e comunque la Lavier Spencer scriva veramente, 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 veramente bene. Purtroppo questo bellissimo libro è rovinato dal fatto che il protagonista maschile e reale interesse amoroso della protagonista femminile è odioso dalla prima pagina all'ultima pagina e rovina la vita di sta povera donna, la tratta male, le dice le peggio cose e io non sono proprio riuscita a giustificare il suo comportamento in nessun punto del libro, dall'inizio alla fine. Purtroppo invece la trama vuole che questa zitella con grandi problemi economici, siamo in America nel West, quindi nell'Ottocento, per avere un piccolo guadagno aiuta il medico ad accudire due feriti che arrivano in paese all'improvviso da un treno, su questo treno c'è stato un tentativo di rapina e uno dei feriti è un uomo che ha tentato di fermare la rapina e l'altro è quello che ha tentato invece di fare la rapina, dopo si scoprirà che le robe non sono proprio andate così, comunque questi due uomini sono feriti quindi vanno curati, lei si prende cura di tutti e due, uno è un uomo molto educato, buono, anche bello tra l'altro, con un suo lavoro eccetera, che arriverà persino a chiedere la mano della protagonista che vorrebbe proprio accettare perché razionalmente si accorge che lui è un bravo uomo, che le vuole veramente bene e che con lui potrebbe avere veramente la vita che ha sempre voluto, ma ha fatto vuole che si senta attratta dall'altro che è un bastardo, che in realtà dopo si scoprirà che non è veramente una persona cattiva, anzi anche molto ricco, ma l'ha tratta da schifo e lei stessa se ne rende conto, però è attratta da lui quindi alla fine, vabbè insomma non vi rivelo altro, però diciamo questo libro mi ha fatto proprio rabbia dentro, però anche questo siccome nella trama lei parte che è innamorata e vuole sposare uno e dopo alla fine mi devia dalla via giusta per quella sbagliata, l'ho voluto far rientrare comunque in questa lista, anche se in questo caso mi devia da quello giusto a quello sbagliato invece che da quello sbagliato a quello giusto, però nella vita capita, quindi possiamo dire che è piuttosto realistico, se non altro. Poi un altro libro sempre inedito in italiano di cui vi ho già parlato, ma che metto in questa lista perché è azzeccatissimo, è Courting Missetti di Pamela Morsi, allora io adoro Pamela Morsi, purtroppo è stata molto poco tradotta in italiano, quel poco che è stato tradotto se lo trovate ve lo consiglio, leggetela veramente, perché a me è quell'autrice che mi tira sempre sul morale, se sono giù, leggo un libro di Pamela Morsi e mi tiro su. E Courting Missetti è sicuramente il mio libro preferito di questa autrice, ho perso il conto delle volte che l'ho letto, se sapete leggere in lingua, perché purtroppo è inedito in italiano, leggetelo, e parla di una donna, siamo sempre nel 1800 in America, eccetera, di una donna che ormai è più di 30 anni, non ha mai avuto un corteggiatore, ma finalmente un uomo lì del paese è rimasto vedovo e ha un sacco di figli e quindi decide di chiederla in moglie perché ha bisogno urgente di una moglie, lei lo sa che lui la chiede in sposa solo per questo, cioè non è che sia, tutto il paese lo sa, quindi diciamo che un pochino questo le dispiace, però dall'altra parte questo pensiero di essere corteggiata solo per questo fatto è compensato dal fatto che lui ha dei figli anche molto piccoli e lei ha sempre voluto una famiglia e tanti figli, quindi sposarlo gli permetterebbe di avere finalmente quella famiglia che ha sempre voluto e avere un marito perché comunque vivere da Zitella a quell'epoca in America cercando di tirar su una propria fattoria è difficilissimo e lei stessa si rende conto che tra qualche anno dovrà vendere la fattoria e darla al suo migliore amico che conosce fin da quando era piccolo e che ha sempre lavorato per suo padre perché lei non non è in grado di stare dietro tutta la fattoria anche se fa molto, quindi comunque sa che non ha un futuro e deve sposarsi e quindi bisogna che accetti, cioè non ha tanta scelta e cerca di vedere il lato positivo di questo perché lei comunque è una persona che vede molto il lato ironico della vita, molto positiva e ottimista nonostante tutto, nonostante sia rimasta orfana, cioè abbia perso i genitori presto, si sia dovuta arrangiare presto e tutto il resto. Il suo miglior amico che appunto lavora per lei ancora, le dà una mano con la sua terra eccetera, però non apprezza il fatto che lei debba accettare per forza il corteggiamento di quel vedovo che lui considera non degno di lei perché insomma ha tanti difetti caratteriali e altre cose, niente di, non è una cattivissima persona, però non è neanche il massimo della vita anche come bellezza tra l'altro, però e quindi lui dà fastidio che lei debba abbassarsi ad accettare lui e all'inizio però non si accorge che parte di questo fastidio che prova è perché in fondo è lui che ha tratto da lei, ma siccome lei ha qualche anno in più di lui e praticamente lo ha visto crescere, lui non l'ha mai considerata da un punto di vista romantico anche perché lui ha una ragazza e tutto il resto a cui ha già chiesto di sposarlo, però in realtà la sua ragazza è innamorata di un altro che però non può sposare perché è povero, insomma c'è tutta una trama. Però nonostante ci siano tutte queste trame intrecciate tra di loro di amori non corrisposti o impossibili, resta comunque una trama leggera, piacevole, ottimista e finalmente i due migliori amici si accorgeranno che quello che provano l'uno per l'altro è più di quello che credevano. È molto 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 carino, molto molto consigliato, ve ne ho già parlato 150 volte quindi non mi dilungo più ancora, però veramente veramente lo amo tantissimo. Sempre in questa lista metto un altro libro di Pamela Morsi, anche questo purtroppo inedito in italiano, che è Here Comes the Bride, sempre questo ambientato sembra una piccola città dell'America nell'Ottocento, qui abbiamo una donna che è capo di una piccola azienda di ghiaccio, di distribuzione del ghiaccio se non mi ricordo male, che se ne occupa fin dalla morte del padre, lei è brava ad occuparsene, ha diversi uomini che lavorano sotto di lei, però anche lei ha superato i 30 anni e si vuole sposare. Ha già deciso con chi si vuole sposare, sono anni che si accompagna con il barbiere vedo del paese e sembra proprio che già lei è. Sa che lui la vuole sposare, o almeno crede di sapere questo, però lui non si decide a chiederle di sposarlo e quindi per forzargli un po' la mano decide di giocare la carta della gelosia e chiede a uno degli uomini che lavorano per lei, se in cambio del fatto di diventare suo socio d'affari, quindi da sottoposto diverrebbe un suo socio, fingere di essere interessato a lei e corteggiarla in modo che questo vedovo finalmente si decida a fare il primo passo e a chiederle di sposarlo. Peccato che quando i due, che comunque hanno caratteri molto simili, sono sempre andati abbastanza d'accordo con l'altro, cominciano a vedersi un po' al di fuori del contesto lavorativo, insomma vedono degli altri lati di loro che non conoscevano eccetera, si scoprono a tratti l'uno dall'altra, quindi lei che era partita per vorre sposare uno, alla fine finirà per innamorarsi dell'altro. Molto carina anche questa trama, guardate, io non so più cosa dire, cioè leggete Pamela Morsi veramente, perché io l'adoro. Altro libro sempre di Pamela Morsi che ho messo in questa lista, perché? Perché molti dei suoi libri hanno proprio questo tema al centro della trama, è Runabout, anche questo purtroppo inedito in italiano. Allora praticamente qua abbiamo una ragazza che è diciamo è rimasta orfana, anche questa purtroppo abbastanza presto, ha un migliore amico che anche lì lei ha aiutato quando erano giovani eccetera. Lei non è bellissima però ha un carattere molto ottimista, molto simpatica, ha un migliore amico che le vuole tanto bene, insomma ha tante belle cose positive nella sua vita, ma viene abbandonata dal suo fidanzato all'altare, proprio facendo una figuraccia davanti a tutto il paese e ne rimane sconvolta, perché comunque anche lei insomma un po' di orgoglio ce l'ha, quindi il suo migliore amico si arrabbia tantissimo per lei, perché come osa quello là a trattare così la mia migliore amica che non lo merita e allora si offre di far finta di corteggiarla in modo che anche gli altri uomini del paese si accorgano che lei comunque ha valore come fidanzata e come donna, perché se lui che è abbastanza famoso, che ha una fama di abbastanza avere l'occhio per le donne eccetera, si accompagna con lei in questo senso vuol dire che quindi ha qualcosa dalla sua parte che può attirare gli uomini e dall'altra parte per fare anche vedere al suo fidanzato che l'ha mollata così, che ha fatto la scelta sbagliata e che comunque lei non lo rimpiange. Spero che quello che parte come un piano semplicemente per aiutare la sua migliore amica si ritorcerà in un certo senso contro di lui, perché alla fine lui si accorgerà che le vuole veramente bene anche in quel senso, ma non si era mai accorto di questo e insomma capirete già come va a finire. Questo libro è molto carino anche questo libro, molto 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 romantico, ve lo consiglio senza alcun problema, se potete leggere in inglese leggetelo perché è veramente 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 carino. Altro libro che metto sicuramente in questa lista, anche se forse non ha la trama più azzeccata per rientrarci, però ce lo voglio mettere anche perché questo è disponibile in italiano a differenza degli altri, è Magnifica Preda di Kathleen Woodweiss. Allora, vi ho già parlato di questo libro quando vi ho parlato dei miei libri preferiti, della mia classifica personale dei libri di Kathleen Woodweiss, quelli che vi consiglio di leggere e quelli che non vi consiglio di leggere. Questo è uno dei miei libri preferiti suoi, perché è molto ironico, molto carino, succedono tante cose, spionaggio di qua, spionaggio della ma, è il rapporto tra i due che è molto conflittuale, all'inizio ho fatto di scherzi, sgarri eccetera, che secondo me vale la pena rende il libro degno di essere letto proprio perché è un pochino più leggero degli altri della Woodweiss. Abbiamo un uomo che per vendicarsi di una famiglia eccetera decide di rapire la figlia di un nobile che ha fatto uno sgarro alla sua famiglia. Siamo nell'Inghilterra elisabettiana, un'epoca molto turbolenta dove rappimenti a destra manca, accoltellamenti e tante altre cose accadevano a corte. Quindi lui decide di rapire questa ragazza, però quando va a fare il fatto, rapisce la cugina di lei invece, per sbaglio. Si accorge subito dell'errore appena la tira fuori dal sacco, però ormai quello che è fatto è fatto, non è che può andare così a restituirla così subito, bisogna che aspetti un attimo, che trovi il momento giusto per farla ritrovare alla sua famiglia, tutta il resto e poi lui al momento ha anche un piano che deve mettere in atto perché ha scoperto che c'è un tradimento in atto, quindi deve fare di tutto per sventarlo, quindi non ha il tempo perché deve viaggiare, andare nei paesi bassi, insomma c'è tutto un suo piano, quindi dice a sta poveretta, guarda aspetta un attimo, ti restituisco i tuoi perché non sei te che volevo rapire, sta buona lì nel mio castello un attimo, però perché adesso non ho tempo di restituirti. Lei che ha un caratterino, e te lo raccomando, la prende molto bene su questa cosa, comincia a fare degli scherzi a lui, lui dopo si ritorce contro di lei, insomma, però i due pian pianino si accorgono di avere quindi un carattere molto simile e cominciano a piacersi l'un l'altro con questa convivenza. E ho voluto mettere questo libro qui perché all'inizio lui che vuole rapire la cugina di lei, quindi che è molto bella, molto ammirata, sembra che fosse, cioè lui la vuole rapire per vendetta, però sembra anche da come ne parla, da come la descrive dopo con lei che ne fosse anche un pochino invaguito, no? E invece dopo si scoprirà innamorato della cugina che ha rapito, quindi comunque c'è questo voltafaccia, anche se noi in realtà l'altra donna non la vediamo quasi mai neanche nel libro, quindi diciamo che va, forse non è proprio il libro più centrato per questa lista, ma ce l'ho voluto mettere, perché comunque resta un gran bel libro che vi consiglio. Ultimo libro di questa lista invece è anche questo azzeccatissimo e centratissimo e disponibile in italiano, è l'ultimo libro della serie Bridgeton, Il vero amore esiste, quello che ha come protagonista il fratellino e il più piccolo Gregory. Allora Gregory crede nel vero amore perché ha visto tutti i suoi fratelli Bridgeton trovare il vero amore ed è convinto di essere innamorato di una ragazza che ha incontrato a un ballo, dice io ho trovato il mio amore, ho trovato il mio amore, è stato amore a prima vista come con mio fratello Benedict, sì sì sono innamorato, sono innamorato, però lei purtroppo è innamorata di un altro, quindi per conquistare il suo vero amore Gregory chiede aiuto alla migliore amica di lei che accetta di aiutarlo perché comunque Gregory è un bravo ragazzo, quindi dice preferisco che la mia amica invece di correre dietro a quello là stia con Gregory perché secondo me è un buon partito e potrebbero stare bene assieme. Peccato che i due alleandosi si frequentano, si conoscono eccetera e Gregory ad un certo punto si accorgerà che in realtà non era amore quello che provava per quella ragazza ma il vero amore è quello che prova per la migliore amica di lei che ha conosciuto veramente e quindi dovrà insomma tornare indietro sui suoi passi, fare un riassetto generale e conquistare invece la donna che ama veramente. libro molto carino, non il mio preferito della serie anzi forse, quello che preferisco di meno della serie è quello di Benedict perché quello di Benedict è veramente un retelling di Cenerentola fatto male quindi quello proprio non mi piace. Questo è quello che mi piace di meno dopo di quello ecco perché perché è un pochino prevedibile, un pochino molto prevedibile cioè vedi già dove andiamo a parare ma proprio in tutto fin dall'inizio inizio inizio e poi lui veramente ha due salami sugli occhi che veramente te li raccomando però è carino, non dico che non sia carino e poi se uno legge tutta la serie Brigetto non mi può saltare l'ultimo libro, bisogna leggerlo per forza. Qui si chiude la mia lista di libri con protagonisti che all'inizio sono innamorati di uno ma poi durante il libro si accorgeranno che la persona giusta per loro è un altro e riusciranno a conquistare il loro vero amore, spero che vi sia piaciuta, lo so conteneva tanti libri inediti in italiano, sembrava tipo un escursus dei libri di Pamela Morsi ma ho cercato di fare del mio meglio cercando dei libri dove questo tema fosse veramente centrale perché in molti romans c'è, è presente in tantissimi romans ma intrecciato con altri temi che secondo me sono più centrali in quelle specifiche trame quindi non mi sarei sentita a posto mettendoli in questa lista sinceramente perché quella trama è più centrata su altri temi, contiene anche questo però è più centrata su altri temi. Spero che questa lista piaccia soprattutto alla persona che me l'ha chiesta e vi ricordo come sempre che se questo video vi è piaciuto potete cliccare mi piace qui sotto e iscrivervi al mio canale in modo da non perdere i miei prossimi video. Inoltre se volete sentitevi liberi di chiedermi delle liste di libri e sarò felice di farle per voi e di dedicare a loro un video e un post anche sul mio blog e come sempre vi auguro buona lettura.